Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo destinata a qualche cosa in più che a una donna e a un impiego in banca si parlava con profondità di anarchia e di libertà tra un bicchiere di coke ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò Eravamo tre amici al bar uno si è impiegato in una banca si può fare molto pure in tre mentre gli altri se ne stanno a casa si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però Eravamo due amici al bar uno è andato con la donna al mare i più forti però siamo noi qui non serve mica essere in tanti si parlava con tenacità di speranze e possibilità tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà E' rimasto solo io al bar Gli altri sono tutti quanti a casa a quest'oggi verso le tre Sono venuti quattro ragazzini sono seduti di vicino a me Con davanti due coche e due caffè Mi sentivo chiacchierare ha deciso di cambiare tutto questo mondo Che non va Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti